Possiamo entrare un po' nel dettaglio di questa operazione che avete condotto oggi? L'operazione odierna in primo luogo costituisce uno straordinario esempio di quanto sia alta la soglia di attenzione da parte della Procura della Repubblica di Roma e da parte della Guardia di Finanza nella sua articolazione specialistica, qual è il GICO, rispetto al territorio di Ostia. In tal senso abbiamo sottoposto a sequestro un patrimonio costituito da 19 persone giuridiche, più di 500 unità immobiliari, 11 auto-motoveicoli e numerosissimi conti coerrenti e rapporti finanziari per un valore complessivo di stima di circa 450 milioni di euro. Il sequestro è stato effettuato nei confronti di un colletto bianco, l'imprenditore Balini Mauro, rispetto al quale è stata ricostruita l'intero profilo soggettivo, accertando come si fosse reso nel tempo protagonista di tutta una serie di illeciti di natura penale e quindi si potesse qualificare il medesimo soggetto come socialmente pericoloso. Quindi tutto quello che avete sequestrato è in qualche modo riconducibile a questo soggetto? È tutto ritenuto direttamente e o indirettamente riconducibile al Balini Mauro attraverso familiari conviventi, ovvero attraverso soggetti che riteniamo prestanome. L'indagine non è iniziata quest'oggi, è un'indagine che è in corso da diversi mesi, si intreccia appunto con altre indagini. Come è stato il vostro lavoro? Sostanzialmente abbiamo valorizzato l'esito di tutta una serie di attività investigative disposte dalla Procura della Repubblica di Roma, sia con riferimento a reati societari e fallimentari, da qui l'arresto nel luglio 2015, del Balini unitamente ad altri tre soggetti per associazione a delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta, nonché abbiamo valorizzato tutta una serie di elementi investigativi nel tempo acquisiti, sin allontano 2004, dalla direzione distrettuale antimafia, nell'ambito di diverse indagini che avevano comunque focalizzato l'attenzione sul territorio di Ostia. Quindi sono 12 anni di indagini, avete ricostruito 12 anni di movimenti, 12 anni di indagini, 12 anni un filone di questa durata legato al Balini? In buona sostanza abbiamo cercato di ricostruire tutte quelle che fossero le relazioni dell'imprenditore Balini Mauro, rilevando come lo stesso fosse più volte emerso in contesti investigativi, che seppur non avevano poi portato a dirette contestazioni di natura penale, avevano tuttavia documentato come il benedissimo risultasse in diretti contatti con personaggi di spicco della criminalità delinquenziale operanti ad Ostia. Per chiarezza, Balini Mauro oggi non è però stato arrestato, non c'è un ordine di arresto, è solamente indagato? Il procedimento odierno si inserisce in un contesto di misure di prevenzioni personali e patrimoniali, quindi il Balini è assolutamente libero, è indagato in sede penale per altre vicende, ma l'operazione odierna non ha portato ovviamente ad alcun tipo di provvedimento custodiale essendo finalizzato all'aggressione al patrimonio ritenuto appunto illecitamente accumulato.